La torta del venerdì santa a Grom. La meiazza è una torta che smaia il nome a Grom, oltre del venerdì santa. Quello che si fanno da Grom, che è una certa età, e che hanno un po' oltre pensieri. La meiazza. L'otter è una torta, perché alcune di nostre nene la fa 16 anni. E comincia a pensare a quattro prima, perché gli ha di comprare tutto quello che può cuore. E poi, la farina di fare la polenta, che ha di fare il pa, o leate, o l'ace, i por, o i sigoli, l'iole, o il sucre, e i fai figli secchi. Ma la meiazza, la che bisogna delle acque pure, stacca la mattina a impastare, smette sul tavolo e scomincia. Anche perché, dopo un mese di, i gatti andano in ciesa. I noni, i cominciano a colperare i pom, i gatti andano ok, se è smestere con i figli. Sui pom, i gatti andano a chiedere i mu, per i miei fai di neiger, e poi, i mettono insieme, i farine, gli oeuf, o il sucre, e i fai, i pom, o l'accio con detto leac, o tanti di sal, un po' di ore, e i patate in una padella. Se le darà le miei. Prima però, i fai gassi l'ore con la sigola, e poi ne metti i por, i la fai cantare, e dopo i gabbottassi l'altro. tutto il resto. Alla fine, i la lasso leacqua a cuore, con il suo romantino. Quando le leada, i la faccio, e un uretto in del fuore. La magliasa, però, la ha magliata la schiera, dopo la processione, la tradizione di Sessè. Allora, la sette glum, invidono il pareggio, che sta indotto il paese, a casa per tassare la magliasa, e per vedere la processione del venerdesano. Certo, mi ha toccato il gabbiano, perché la gabbia, un saluto particolare, ma lei la tradisciò, e sperò che l'amore va. Anche se il tempo al passa, andò del tecrum, andò nel vero sempre la magliasa. Grazie. Applaus 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 Applaus